Mi chiamo Vincenzo Cardente, ho 16 anni e vengo del Zapponità, un paese della provincia di Foggia. Conosciuto Tordicola di Bari, studio e studio d'arte e i miei hobby sono cantare, disegnare e girare il mondo. Quello che amo più fare è cantare, infatti oggi sono proprio qui per dimostrarli quello che sono fatti. Vincenzo Cardente, Luci e Luce Fu, ero un po' preoccupata, ecco, ciao Vincenzo, ma io so che hai partecipato, male che vada ti passo il mio microfono, tantissimi concorsi, quindi tenacia, determinazione, ma dove vuoi arrivare Vincenzo? Allora il mio grande mito è Freddie Mercury, quindi arrivare ai suoi livelli, però comunque sarà molto difficile e poi spero di continuare a studiare canto per tutta la vita, perché di studiare canto comunque alla fine non si finisce mai. E quanto tempo ci metti per crearti questa pettinatura? Di la verità, che ti ho visto dietro le quindie, appena sono arrivata che stavi lì col gel che ti dava, di la verità, quanto quanto? Mezz'ora. Mezz'ora! Vincenzo Cardente! Sono un remato, cambio spesso regole. Non perdo mai, nero e poi bianco, muovo luce e tenebre, per vincere. Freddo nel fuoco, io non ho paura, giura, non ha per me mai. Ora, credimi ancora, prendi un respiro, lasciati andare, datti la spinta per saltare. E ora, dai le mie mani, stringili forte, non guardare indietro, non ti lascerò. Mi trasformerò, sarò lupo e rondine, per gli occhi tuoi. Ti confonderò, sarò forte e debole, e mi amerai. Restami accanto, da qui nel mio labirinto. Ora, credimi ancora, cambia il destino, non ti involtare, se mi vivo ai piedi e non pensare. Ora, dai le mie mani, stringili ancora, adesso puoi fidarti, io non ti perderò. Ora, dai le mie mani, stringili ancora, adesso puoi fidarti, io non ti perderò. Prendi un respiro, lasciati andare, datti la spinta per saltare. Ora, dai le mie mani, stringili forte, non guardare indietro, non ti lascerò. Grazie, grazie Vincenzo. Grazie, grazie un secondo, ma mentre cantavi ho notato le tue scarpe, non le avevo viste. Che modello sono? Zeppe. Zeppe? Zeppe. Zeppe con lo specchio, quindi zeppe specchiate, che sono sempre comode quando uno si deve specchiare e si guarda direttamente lì. Bene, grazie Vincenzo, grazie, grazie di cuore.